Buonissimo Presidente, un caro saluto, io sono il Bumbaloon del futuro, sono qui per dirti che al prossimo giro esce un 5, se ti fidi buttaci 5 euri, un bacetto. Ma che dici? Ma che dici Bumbaloon? Oddio, come lo faceva a saperlo? Come faceva a saperlo? Come faceva a saperlo? Come? Ma come? Ma come? Grazie a tutti.